Il terrorismo è da condannare ovunque accada, senza se e senza ma. Quello che è avvenuto a Bruxelles è spaventoso e proprio questa intrusione anche nella quotidianità di noi occidentali è qualcosa che ci sconvolge profondamente. Però è molto importante ricordare che cose come queste vengono subite da altri popoli ovunque nel mondo, quotidianamente. Quindi dobbiamo assolutamente lottare contro il terrorismo ma non dobbiamo, come spesso accade, avere due pesi e due misure rispetto ai drammi che i popoli vivono nel nord o nel sud del mondo.